Niente, neanche in questa domenica assolata di luglio si può beneficiare della spiaggetta lungo il Brenta con accesso da via Pusterla. Niente, ancora off limits, quell'oasi naturale che la città di Bassano e il fiume Brenta offrono a chi cerca il refrigerio in queste torride giornate. Resta un cancello serrato, resta una recinzione alta, resta un divieto di accesso a un'area dei e delle bassanesi chiusa per motivi oggi incomprensibili. Perché se in passato sul piatto c'erano la tanto contestata centralina e il suo cantiere, oggi quel cantiere non c'è più e di centralina, forse, si tornerà a parlare più avanti. E intanto, che dire a tutte quelle persone che ci fermano e ci chiedono di occuparci di quel luogo tanto caro a chi vive in città? Quel paradiso goduto a metà sul fiume perché solo la parte in destra Brenta è fruibile? Non tutti, a maggior ragione in questi tempi così difficili causa pandemia, hanno la possibilità, come sta facendo la prima cittadina Elena Pavandi, andare in vacanza. Un diritto, per carità, ma è anche un sacro santo diritto dei e delle bassanesi riavere la spiaggetta di via Pusterla. Non a fine estate però, cara sindaca, che ci vuole per aprire un lucchetto che non ha senso di essere in quel posto? Grazie a tutti.